L'edilizia si augura che vengano adeguati i prezziari, perché una volta c'era la revisione prezzi che colmava queste prusvalenze, chiamiamole, veramente abissali. Oggi praticamente vanno aumentati, che vanno di pari passo, quelli che sono gli adeguamenti dei vari prezziari regionali e se non si provvede, perché da una parte sono stati già revisionati, però sono quelle revisioni che si creano tanti di quei lacci, laccioli, interperrazioni, che per applicare un prezzo necessitano 3-4 persone che ci lavorano, che sono addirittura talmente difficoltosi per interperarli che non ti permette di avere una contabilità scorrevole, che quando noi emettiamo dei salle in stati di avanzamento lavori, purtroppo qui ci inceppiamo un po'. Adesso si sta facendo un'ulteriore revisione del prezziario Regione Abruzzo, augurandoci che venga immediatamente approvata. Questa mannaia dei prezzi come influisce sulla ricostruzione della città dell'Aquila? Parliamoci chiaro, la ricostruzione della città dell'Aquila, del centro storico, ormai è in una fase molto avanzata, posso dire che sta intorno all'80, 85, 83, non è punto più, punto meno. Le periferie invece è stata realizzata circa il 30%, il 70% e tutto questo come influisce? Influisce che adesso ce l'auguriamo, perché l'ordinanza di Legnini, quale commissario per il Centro Italia, è stata sanata da qualche mese e si attendeva questa invece che riguarda la ricostruzione del 2009. Noi conosciamo benissimo i procedimenti perché da una parte c'è il commissario che ha potere straordinario, dall'altra c'è il governo che è sempre la stessa famiglia, non capisco, c'è un capo della struttura tecnica di missione e comunque siamo arrivati all'approvazione dell'emendamento. Però io non entro nell'approvazione dell'emendamento, se è giusto o sbagliato, non l'ho neanche interpellato perché sono quattro parole. Adesso noi dovremmo avere un incontro con gli uffici speciali, con l'USRC e con il coordinatore dei sindaci, con anche l'apparato del Comune dell'Aquila, se dal sindaco o chi per lui, per definire un regolamento chiaro, schietto, applicabile, un regolamento che permette di applicarlo senza dubbi ed interpretazioni diverse. Se riuscissimo a fare una cosa del genere potremmo recuperare, non dico il tempo perso ma quantomeno partire sparati. Perché? Perché con queste indecisioni, ma come si può che preventivamente un'impresa già sa, prima di iniziare un lavoro, che è in perdita di un 20% o di un 15% e non credo che oggi ci sono spazi per eseguire lavori e per accollarsi queste perdite. Non è tanto quello che è la paramedica perché già è stabilita per un massimo del 20% e quella è definita. Tutte le schede paramediche, cioè il contributo, verrà aumentato del 20% dell'importo totale perché lì sappiamo e conosciamo benissimo che c'è il tetto, allora quel tetto viene revisionato, per dire un tetto di un milione di contributo viene revisionato a un milione e due. E poi serve il giustificativo per contabilizzarlo, che significa che ogni prezzo unitario va applicato per ogni tipologia di lavoro da seguire e all'ultimo però se non c'era capienza prima oggi si può sforare fino a quel 20%. Ma io comunque tenterò oltre il regolamento, oltre questi aggiustamenti che venga sanato anche quello che riguarda i lavori sospesi, più che sospesi i lavori che si sono fermati perché un'impresa non può sospendere, può fermare per giustificato motivo o per necessità o per addirittura per misure straordinari che si sono venuti a verificare in questo periodo. Allora noi dobbiamo da una parte sanare quelle che sono i cantieri fermi, ridare una giusta proroga affinché rientrassero per escludere quelle che sono le penali. Poi c'è l'altro, quello che riguarda il contributo concesso, contributo concesso è che i lavori non sono stati iniziati nei 30 giorni prescritti dal regolamento e allora anche quello va sanato. Se il contributo è di 6 mesi fa e è scaduto 5 mesi fa, da oggi ripartiranno i giusti tempi e un cronoprogramma riaggiornato.